ciao a tutti carissimi ben ritrovati nel canale allora guardate un po' la lina oggi cosa c'ha il nuovo bigliettino l'ho trovato per caso e allora l'ho preso allora ne ho presi cinque vediamo costano due euro buon anno 2020 bello no sembra bello ma vediamo cosa ti dice se fortunato e niente allora carissimi amici sono la stessa serie però non sono consecutivi non sono consecutivi non vediamo allora incominciamo dal primo bigliettino che vediamo un po allora questo è allora la serie la serie 98 questo numero 8 ok vediamo di zoomare un po ok va bene così ancora di più ok buona visione a tutti amici ok vediamo un po il buon anno 2020 che ti dice allora il funzionamento è che bisogna ci devono uscire guardate un po si vede allora i due calici ci devono uscire i due calici che brindano allora si vince il premio corrispondente e se ci esce la scritta auguri vedete si vince per dieci volte il premio ok vediamo un po che ci dice incominciamo con la nostra grattata incominciamo dalle stelline vediamo allora la stellina ci dice non è soltanto che non so qua che cos'è un orologio ora abbiamo la musica voglio un calendario che non ci dice niente e una un cappellino un cappellino ma sotto qua non c'è dove sta noi dobbiamo provare no ci sotto ah ecco allora questo è un disco poi abbiamo la trombetta poi abbiamo la maschera e il raggio allora questo biglietto non è vincento questo è il numero 8 della storia 98 allora il primo biglietto non è vincento vediamo un po il secondo questo è il numero 6 vediamo che ci dice il numero 6 allora stellino disco tappo tappo raggio e musica qui non so dove fanno male i libri qua ecco l'ho pescato la limousine la maschera il regalo il regalo e l'orologio pensa che non c'è niente altro no no ok ah seconda bigliettina perdente adesso passiamo al numero 5 e vediamo un po e vediamo un po disco calendario musica orologio abbiamo raggio campanello no no cappellino no campanello noi abbiamo una trombetta e un tappo e sta tre biglietti per dentro vediamo un po col quarto vediamo che ci dice il quarto vi ho detto questo è il numero tre ok allora musica lumusine orologio e stappo poi abbiamo disco questo che cos'è la trombetta poi abbiamo il regalo e poi abbiamo un cappellino niente amici quattro biglietti per dentro lo vediamo qua ultimo biglietto che è il numero 4 vediamo un po' allora raggio lumusine cappellino e orologio poi abbiamo la musica ah ah c'è una vincita attenzione una vincita abbiamo arrivato i due calici poi il pacchetto e il disco allora vediamo che ci dicono i due calici 5 euro bene 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 allora comunque cari amici allora questo io veramente ho preso 6 biglietti vi mostro quest'altro biglietto che era il numero 2 che l'ho grattato lì al barro e qui mi sono usciti guardate qui sono usciti due volte il calice che sono 5-5-10 euro allora 15 euro e comunque è andata bene perché su su 6 bigliettini abbiamo fatto 4 verdenti 4 verdenti e due vincenti e due vincenti dunque uno 10 euro e l'altro 5 euro ok comunque qualcosa c'è uscita bene su 12 euro di spesa no? sì ok 10-12 su 12 euro di spesa siamo andati anche in positivo chiudiamo in positivo diciamo di poco però positivo e vabbè ecco qua 5-5 5-5-10 e 5 va bene carissimi allora abbiamo provato un nuovo biglietto e ma non so quando lo ritrovo di nuovo però almeno l'abbiamo trovato a quanto sembra è arrivato oggi è arrivato intanto ringrazio tutti ringrazio tutti voi per la per la visione vi do appuntamento al prossimo video sperando anche fortunato ok ciao ciao a tutti un bacio un bacio alla lina ciao 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 ciao